E chiamo con la loro vettura sperimentale, una Nissan, anche loro fedeli amici dell'Africa Eco Race, per il team Rossi 4x4, Stefano Rossi e Jacopo Casini! Una settimana fa la bandiera tricolore sventolava la grosa di Dakar al termine della gara. Adesso il team Rossi 4x4 è stato ricevuto in aula dal Consiglio Comunale per la consegna di una targa celebrativa. Devo dire molto entusiasmo, è stato veramente gratificante essere nel proprio comune e ricevere poi anche una targa di riconoscimento è per noi motivo di orgoglio. Gli aretini Stefano Rossi e Jacopo Casini non solo hanno raggiunto il traguardo dell'Africa Eco Race, ma sono arrivati al primo posto nella speciale categoria Experimental per aver gareggiato il volante di una Nissan ad alimentazione ibrida a benzina e idrogeno. È un sistema che ci proietta un po' nel futuro e spero che da questa anche nostra esperienza ne vengano fuori delle innovazioni continue che possono contribuire a quello che sarà il futuro diciamo un pochino più sostenibile, anche se il nostro è un mezzo che comunque va a benzina, questo additivo ci permette di ridurre le emissioni inquinanti. Sono state 12 tappe per 6.000 km di gara per una delle manifestazioni motoristiche più affascinanti ed impegnative del panorama mondiale sui tracciati della storica Parigi-Dakar. È un'avventura impegnativa e dal lato fisico sciocca qualunque condizione fisica perché noi si viaggia da oltre 43-47 gradi esterni, ne abbiamo quasi 60 in abitacolo e è una battuta che noi facciamo spesso di ricordarsi a vicenda, di imporsi di bere per non disidratarsi. Io pensavo di accendere l'aria condizionata. Ecco, non abbiamo finestrini, c'è una bocchetta d'aria nel tetto e sono condizioni proibitive a cui noi però andiamo con il sorriso e ci piace farlo perché è il nostro sport. La gara è veramente tosta, giorno dopo giorno nuove sfide, tante difficoltà più che altro a livello fisico e mentale da comunque dover gestire sempre al miglior modo possibile.